ciao zi ciao dove stiamo andando? stiamo andando a Perugia, siamo in autostrada ancora c'è la Manu? no eccola qua la Manu ti manca? tanto? parecchio hai avuto problemi stamattina di questa mancanza no vabbè ero addormentato quando mi sono reso conto che mancavo ti stai consolando? diciamo di diciamo di si in questo momento sei contento? in questo momento? si in questo momento si perchè? guarda la mia destra e in effetti ci ho pensato io puoi salutare la Manu? non ti preoccupare non è successo niente e oh mio dio guarda la mia